Grazie. Qualche giorno fa siamo stati al Cairo. Abbiamo fatto un concerto in un posto davvero molto prestigioso per la musica che si fa da quelle parti. L'Opera House del Cairo, il posto dove solitamente, o meglio nella vecchia sede dell'Opera House si esibiva una grande cantante, la stella d'Oriente, la nostra Maria Calla, si chiama Um Kaltoum. Noi proprio ispirati a uno dei suoi testi abbiamo scritto questo brano che si chiama Cairo Blues. Um Kaltoum quando cantava si fermava tutto il mondo arabo, tanto è che oggi, il 5 giugno, è l'anniversario, se vogliamo chiamarlo così, di questa guerra, la guerra del Kippur. L'esercito israeliano ha scelto proprio il giovedì della fine del mese, proprio quando Um Kaltoum cantava l'Opera House del Cairo per sferrare l'attacco, perché tutto il quartier generale era al teatro per sentire il canto di questa meravigliosa cantante, quindi hanno scelto proprio la distrazione, il diversivo buono per sferrare il loro attacco. Bene, non è la guerra, ma noi vogliamo proporre un canto di pace, o meglio, Cairo Blues. Ma noi vogliamo proporre un canto di pace, per sentire il canto di pace, più in un' iddi e qualcuno per mani, dogs salte e il canto di pace, in un cucumbia naturale, piicional, che mori, non è il cuore, non è una guerra, è il canto di pace, lim saturatedare il canto di pace, reverendo la Operazione per Eng�imia, Fai da' alf Nessit il nuf W'i amm Nessit laiali W'i ahlamm Asit Il nuf Fai adhanu Asit laiali W'i amm W'i amm W'i amm Nelbog W'i amm 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti